E per finire, un argomento che ho affrontato anche nell'Evolution Forum, una performance di alto livello è, da un certo punto di vista, pericolosa. Ci sono dei rischi nella performance, intanto il rischio è quello di perdere l'equilibrio, cioè se immaginiamo che la nostra vita sia una cucina con quattro fuochi, non ce ne sono di più, ma facciamo finta che siano solo quattro, e che sono il lavoro, la famiglia, le amicizie, gli affetti, il tempo libero, la cultura, i viaggi, e la salute, la palestra, l'alimentazione, il sonno e la non esistenza di droghe per mantenere alta la performance. Se uno dedica troppo tempo a uno di questi fuochi, cioè se non fa altro nella vita che viaggiare, o non fa altro nella vita che studiare, o non fa altro nella vita che stare con gli amici, o non fa altro nella vita che lavorare, il rischio è quello di spegnere gli altri tre fuochi. E questo mette spesso le persone in una condizione di disequilibrio. Qui non si tratta di non lavorare più o di non vedere più gli amici, si tratta di sapere che se stai preparando le Olimpiadi per quattro anni avrai da spegnere dei fuochi, lo devi fare consapevolmente e devi sapere che pagherai un prezzo per avere un'alta prestazione, un prezzo che non può essere pagato con l'uso di, vi ho fatto vedere una diapositiva all'Evolution Forum, delle droghe che sono così diffuse, droghe illegali, che sono così diffuse nel mondo occidentale dove si richiede a tutti una performance di altissimo livello. Di questo parleremo perché l'ecologia evolutiva, cioè la capacità di mantenere un sistema ecologico, cioè che nutre se stesso, ma non solo rotondo, anche spiralico e quindi evolutivo, l'ecologia evolutiva, è di fondamentale importanza per mantenere una performance sul lungo periodo, non solo nell'arco di un anno o tre anni, ma vent'anni della vita professionale di una persona. Di questo parleremo il 28 marzo al Sales Force.